Allora, buonasera a tutti, ben arrivati, ben ritrovati alcuni di voi. Per chi non mi conosce, sono Edoardo Pavia, sono il direttore dell'Accademia Internazionale di Scienze Tecniche Subacque e cominciamo con la giornata di oggi con il primo conferimento di una serie di conferimenti che avverranno tra oggi, sabato e domenica. Allora, senza perdere ulteriore tempo, tra l'altro siete tutti della famiglia, direi, o molti di voi sono della famiglia. Oggi cominceremo con l'attribuzione dell'award, l'award che è stato attribuito alla FIAS. Correggetemi se sbaglio, perché ho cercato di leggere qualche appunto, qualcosa su di voi. Poi la FIAS nel 68-69 ha la sua prima, diciamo, apparizione, se così si può dire, ma nel 72 trova il distacco completo e quindi diventa a tutti gli effetti un'agenzia che poi sarà una di quelle che determina la crescita e la sensibilizzazione per quanto riguarda l'ambiente marino. Oggi la FIAS è una realtà che non ha certo bisogno del sottoscritto per essere descritta. E io, a questo punto, se siete d'accordo, senza perdere altro tempo, vorrei invitare il vostro presidente Marco Lerma a salire qui sul palco. E cedo la parola a lui che ci farà una presentazione e quindi poi riprenderemo l'argomento più tardi. Grazie. Grazie. Innanzitutto grazie al presidente e all'ingegnere Ferraro per questa bella sorpresa che mi ha dato in anteprima qualche tempo fa e un ringraziamento particolare a un socio fondatore della federazione, l'accademico Adolfo Magarin, che è il nostro padrino in questa nuova attribuzione. E partiamo proprio da una frase che Adolfo ha voluto esprimere nei confronti di FIAS L'anno scorso, quando abbiamo festeggiato ufficialmente i nostri 50 anni di onorata attività a Genova da scuola di tecnica subacquea, la FIAS è una scuola di vita. E questa è una cosa che ci ha dato particolarmente fierezza che noi ce la stiamo ripetendo e la stiamo raccontando ai nostri allievi perché effettivamente è così. Adolfo, stavamo parlando poc'anzi, è stato uno dei fondatori della FIAS e proprio questo era l'intento della FIAS non solamente insegnare la tecnica subacquea ma insegnare a salvarci e quindi fare una scuola di vita completa. Come ricordava il direttore della scuola, siamo nati nel 68 un piccolo sparuto gruppo che poi nel 72 ha depositato il primo statuto e l'anno scorso abbiamo festeggiato 50 anni il primo corso istruttore nel 74, il primo punto mare nell'84 e una federazione, o quantomeno lo era, creata dai subacquei per i subacquei e c'è stata una costante che è stata quella della crescita continua di continuare a vedere la subacquea non come un punto d'arrivo ma come un punto di partenza e quindi ci siamo sempre prefissati degli obiettivi che erano quelli della ricerca, della sicurezza, del rispetto e della salvaguardia del mare e dei suoi abitanti. Noi da sempre abbiamo messo come nostro primo punto focale la salvaguardia del mare e quindi abbiamo sempre prediletto la salvaguardia e il rispetto dell'ambiente dove noi ci andavamo ad immergere. Siamo stati anche i creatori di un progetto, il MAC che era quello appunto del monitoraggio dell'ambiente costiero che è ancora in auge anche se è datato di quasi vent'anni. A un certo punto negli anni Ottanta arrivano le didattiche americane ma noi abbiamo convissuto, non abbiamo mai combattuto contro nessun'altra organizzazione ma questo ci ha creato uno stimolo per continuare ad andare avanti e migliorarci e cercare sempre di trovare delle soluzioni perché la subacquea nel frattempo si era modificata, si era modernata e quindi dovevamo stare al passo con i tempi. Tanti sono stati i miei predecessori per citarne uno Cesare Barnini, un grande della subacquea iperbarica ma tutti quanti sono stati ottimi presidenti che hanno cercato e hanno sicuramente raggiunto un sacco di obiettivi. Diventiamo membri dell'RCTC Europe, siamo entrati INCMAS e poi sotto la spinta del mio predecessore abbiamo certificato la nostra federazione e questo è uno dei fiori all'occhiello perché siamo stati i primi a certificare la subacquea italiana. Siamo membri di Assosub, di Cias e della consulta della subacquea. Queste sono alcune delle headline che sono spassate nel corso dei nostri 50 anni ma in fondo in fondo lo vivi il mondo e soprattutto nel rispetto in sicurezza con amore. Rispetto per il mare, sicurezza per noi stessi e amore nei confronti di tutti quanti sia dei nostri soci che del mare che noi e degli abitanti che lo abitano. Un grande aspetto della federazione è sicuramente l'entrata in protezione civile. nel 1986 siamo stati riconosciuti dal ministero e dal dipartimento della protezione civile facciamo parte del comitato presso il dipartimento e abbiamo una colonna mobile con un sacco di mezzi e interveniamo direttamente sotto la guida e il controllo del dipartimento. Com'è strutturata la FIAS? La FIAS è una struttura piramidale parte dalla dirigenza nazionale sotto ci sono le sezioni poi ci sono i circoli ma non finisce qua sotto c'è tutta la famiglia FIAS che è il vero motore che anima e struttura tutti quanti. io sono il primo ad arrivare qui e sentirmi non presidente nazionale ma essere l'ultimo dei soci che è anche il primo ma se c'è da prendere la scopa in mano per ammazzare per terra o per servire i pasti ai terremotati piuttosto che ai nostri soci sono il primo a farlo perché questo mi gratifica e mi fa sentire parte di una grande famiglia quale io ritengo che FIAS sia. FIAS ormai è specializzata in tutti i corsi della linea subacquea quindi dai corsi A dalle specializzazioni che vanno in Arelitti alla biologia marina al BLSD a qualsiasi altra attività che si possa configurare e anche la parte relativa alla subacquea tecnica che è una cosa che esula un po' dal nostro percorso perché noi siamo la subacquea ricreativa per eccellenza e quindi lasciamo sicuramente spazio alle altre didattiche che fanno determinati tipi di scelte ma sicuramente anche noi ci approcciamo a questo tipo di disciplina. Abbiamo rilasciato migliaia e migliaia direi qualche due o trecentomila larretti nel corso di questi anni tantissime specializzazioni mi fa piacere ricordare Franco Sarastano con cui nel 94 fu fatto il primo concorso foto video sub e soprattutto alcuni dei nostri manuali tecnici sono stati adottati dalle università ad esempio corso di biologia marina nel Mediterraneo che è il nostro libro Un fiore all'occhiello. Ma poi ci siamo anche avvicinati e siamo ritornati al nostro primo amore all'apnea e ultimamente anche alla linea Mermaid le sirene. Tutto nasce da un progetto di una piccola ragazzina ai capelli biondi che è mia figlia che voleva fare la sirenetta sulla spinta del film di Walt Disney e ci siamo messi tutti quanti amici istruttori e mamme a costruire una coda e di lì è nata la Mermaid Academy FIAS che ha avuto un grande successo e sta riscuotendo un grande successo tuttora dove addirittura signore diciamo non più giovanissime un po' attempate telefonano e mi ricordo questo aneddoto che vi voglio raccontare ho 78 anni mi piacerebbe tanto fare la sirena io ci ho provato a telefonarvi se mi potete prendere signora le porte sono aperte per tutti anche per lei ha fatto il corso e ha preso anche lei il diplomino gli istruttori sono sicuramente la più grande risorsa che ogni organizzazione didattica può mettere in campo sono gli istruttori che presentano l'agenzia didattica e in questo caso i nostri istruttori sono quelli che ritengo abbiano la maggior maggior potere nei confronti degli allievi ed è un potere di marketing di avvicinamento di fidelizzazione è per questo che noi teniamo sicuramente ad avere un corpo docente sempre aggiornato sempre pronto sempre preparato e quindi abbiamo predisposto una serie di servizi nei confronti dei nostri istruttori che sono quelli del coaching dell'aggiornamento continuo e periodico e con l'avvento delle nuove metodologie e dei nuovi uffici stampa che ci stanno dietro anche delle dirette streaming siamo dei rubi nude rubiamo per rendere ma rendiamo perché noi viviamo esclusivamente di sorrisi e di pacche sulle spalle questo è il vero stipendio che ognuno di noi porta a casa come tutte le associazioni senza scopo di lucro viviamo esclusivamente delle soddisfazioni delle soddisfazioni dei sorrisi che i nostri allievi ci danno quando hanno raggiunto un obiettivo e se raggiungono un obiettivo vuol dire che hanno trovato in noi la giusta risorsa siamo qua vogliamo continuare a guardare il futuro ma non ci dimentichiamo mai del nostro passato dal quale traghiamo spunti e quindi cerchiamo sempre di tendere verso un continuo miglioramento della nostra attività vi lascio con tre piccoli filmati che racchiudono tutto quello che è il nostro la nostra filosofia digital green e inclusivo filmati filmati Grazie a tutti. 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 A nome dell'Accademia ringraziare per il vostro impegno, per la vostra dedizione e soprattutto per quello che farete in futuro perché ancora dovrete fare molte cose. A questo punto chiamo il nostro presidente Paolo Ferraro sul parco per le motivazioni e il conferimento. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie.